Basta disastri con la cottura alla griglia, basta terribili grassi per la cottura che fanno male e sono ipercalorici, basta patatine croccanti solo se piene d'olio fritto. Ecco la soluzione a tutti questi problemi. Oggi vi presentiamo le 3 panwell per cucinare in modo nuovo e rivoluzionario. Rivestita di particelle di vera pietra per la cottura, ti permette di cucinare in padella come se lo facessi su di una piastra in pietra, proprio come i forni a pietra professionali usati dai pizzaioli. Cucina la carne come se lo facessi sulla pietra con panwell. Lo speciale sistema centrale a fori garantirà la croccantezza che hai sempre voluto, ma senza grassi e senza dover usare il forno. Finalmente una cucina appetitosa, croccante, sana e senza grassi, tutta da gustare. Il rivestimento in particelle di vera pietra crea una omogenea e costante cottura. La speciale zona centrale coi fori garantisce il circolo della temperatura di cottura, eliminando sul coperchio l'umidità in eccesso per avere finalmente in padella la croccantezza che fino a ieri avevi solo cuocendo al forno. Solo con panwell lo puoi fare. Con una padella normale il calore sarebbe solo sul fondo e i cibi si attaccherebbero o brucierebbero. Il nuovissimo set completo di tre padelle panwell è tuo oggi a questo esclusivo prezzo di lancio. Chiama per informazioni sul set completo panwell, che comprende una padella firmata panwell da 28 cm, un'altra da 26 cm e l'originale panwell con i suoi praticissimi accessori. Sono superaderenti e rivestite in particelle di pietra, con effetto croccantezza per cucinare in padella come al forno. Avete visto quante meraviglie con panwell e quante cose stupende abbiamo già cucinato? Sono con lo chef Luca Lotta, al quale chiedo adesso cosa stiamo cucinando. Guarda, ti mostro subito. Sì, c'è un filetto se non sbaglio. Wow! Senza grassi e senza burri, come se fosse rosolato in una pietra di ristorante professionista. Vedete questo rivestimento particolare di particelle di pietra che risulta assolutamente... Vedete? Assolutamente incorruttibile. Adesso cosa stiamo cucinando, Luca? Thomas, ti faccio vedere. Un bel pollo con delle patate ben cotte e con la buccia. Il pollo e le patate è un cimento che tutti immaginiamo vada fatto per forza al forno. Riesci ad avere lo stesso effetto del forno, croccante e arrostito, anche con panwell. Anche con panwell. Cuocere al forno costa tanti soldi, complica la vita in cucina come tutti sappiamo. Da oggi basta forno, cucina in padella come al forno con la rivoluzionaria panwell. Chiama per informazioni sul set completo panwell, che comprende una padella firmata panwell da 28 cm, un'altra da 26 cm e l'originale panwell con i suoi praticissimi accessori. Chiama per informazioni.